grazie a pace e buongiorno a tutti mese 4 giorno 16 dal mio libro 365 respiri numero 2 questi sono i secondi tre mesi nella collana di 12 mesi una perla al giorno di sapienza tratta dal libro dei proverbi oggi leggiamo il verso 22 del capitolo 11 una donna bella ma senza giudizio è un anello d'oro nel grifo di un porco se c'è una cosa che contraddistingue questi giorni nella storia dell'uomo è la propensione dell'umanità tornare indietro le proprie radici animali calcia la palla nella rete sbagliata e parte una rivolta alza le mani al dio sbagliato e qualcuno ti uccide si festeggiano le vacanze estive non senza fiumi di alcol e tonnellate di sesso servono soldi alla raffali leggi valori morale non per me grazie sono sicuro che mister darwin sarà soddisfatto nella sua insensata teoria dell'evoluzione fra parentesi perdonate il mio candore ma quando tu ricavi una scienza da qualcosa che non ha un briciolo d'evidenza per la sola ragione che la sua sola alternativa alla creazione non è per te accettabile beh forse è ora di chiamare le cose con il proprio nome insensata teoria che sostiene che un essere umano è niente più che una forma più alta di animale una delle conseguenze della teoria dell'evoluzione è appunto il sesso sfrenato nessun confine limite nessun no lo vuoi prendilo ti piace fallo dopotutto non sei altro che un gorilla evoluto lascia che la tua parte animale prenda il sopravvento te lo meriti donne non siate di meno dall'uomo sfrenatevi datevi al al tipo brillante incontrato al bar fate collezioni di uomini uno dopo l'altro vivete una volta sola vi servono soldi spogliatevi per quella cinepresa fate sesso con quell'attore date alla platea quello che vuole liberate la bestia che disastro non ho veramente molto da aggiungere alla scrittura di oggi una donna è modesta è come un maiale ingioiellato tu sei stata creata immagine di dio meravigliosa donna tu hai un valore che non ti viene da nessun altro tu non devi vendere te stessa fra parentesi e questo a proposito vale per entrambi i sessi nessuno può permettersi di giudicare i tuoi meriti solo gesù poteva e lo ha fatto con la sua vita il tuo compito per oggi oggi io terrò a mente quanto sia bella la discrezione nel mio modo di pensare di agire di vestire sono una bella donna che non ha bisogno d'altro per essere stimata e preziosa che dell'approvazione di dio e questa signor uomo io ce l'ho a domani grazie a tutti grazie a tutti